Dov'è messa le chiavi? Come lo senti? Che? Si sta a sentire i discorsi del fascio. L'ordina di proposta è seppur iscritto. Io ce la fado, vuoi vedere una? No, no, dìgli qualcosa e poi vai. Poi finisci con la mena. Menalo. Che vuoi? Ah, verrà. Senti, facciamo ragionare. Che ristronzo lo sapevo quando ho finito a questo punto. Perché che ho fatto? Dammi la tessera, va. La tessera è una scelta mia. Bella scelta. Ma te lo sai perché l'hanno chiamato MSI? Perché vuol dire Mussolini sei immortale. Se non per Mussolini adesso volevo dire dove stavamoci. Stavamo con un sacco di gente viva anziché morta in guerra. Ecco dove stavamo. Hai capito? Deficiente. Oh, no. Ok. Te la devi lasciar perdere la politica, hai capito? O solo voi ci potete avere una coscienza politica, eh? Ma voi chi, eh? Parla al singolare quando parli con me. Volevo parlare di Stalin? Eh? Dei crimini del comunismo? Ma di che voi parlate? Che non sei un cazzo? Sterminatore d'ebrei? Lo sterminio degli ebrei? Non è vero. Ma te! Gli americani c'è un ruolo! Cazzo, stai a dire! Cazzo, stai a dire! Cazzo, stai a dire! Ma te! 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 Ma te!